Incidenza dei positivi in Sicilia al 2,4%, istituita un'altra zona rossa a Riesi e prorogata a Mazzarino. Tampone obbligatorio per gli arrivi da Malta, pochi vaccini tra i giovani. Giuliana Miciche. Sono 288 i nuovi casi di Covid in Sicilia su 11.939 tamponi processati. L'incidenza dei positivi è al 2,4%. La regione è al secondo posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia, dietro la Lombardia. Gli attuali contagiati sono 3.938, con un aumento di 143 casi rispetto al precedente report. I guariti sono 135. Le vittime sono state 10, anche se in realtà si riferiscono a decessi ospedalieri avvenuti nel periodo marzo-luglio 2021 e nelle ultime 24 ore si registra solo una nuova vittima. Il totale dei decessi sale a 6.006. I ricoverati in degenza ordinaria sono 157, due in meno, e quelli in terapia intensiva si confermano a 20. Ecco la distribuzione dei nuovi casi tra le province. Caltanissetta 68, Enna 43, Messina 36, Agrigento 33, Ragusa 27, Palermo 25, Catania 24, Trapani 18 e Siracusa 14. Nel frattempo il presidente della regione, Nello Musumeci, con propria ordinanza ha istituito la nuova zona rossa, a Riesi, in provincia di Caltanissetta. Il provvedimento è stato adottato di intesa col sindaco interessato e sulla base della relazione dell'azienda sanitaria locale. Le restrizioni saranno in vigore da domani, venerdì 16 luglio, fino al 21 luglio. E con la stessa ordinanza è stata prorogata la zona rossa a Mazzarino, nel Nisseno, fino al 21 luglio. Attualmente quindi le zone rosse in Sicilia sono tre, compresa Piazza Armierina, in provincia di Enna. E ancora Musumeci ha disposto fino al 1 settembre il tampone obbligatorio per chi arriva in Sicilia da Malta o per chi vi ha soggiornato nei 14 giorni precedenti. Le stesse misure di prevenzione sono già previste da una precedente ordinanza regionale per chi proviene da Spagna e Portogallo e come disposto a livello nazionale dai paesi extraeuropei, India, Brasile, Bangladesh e Sri Lanka. Dunque preoccupano l'alta percentuale di positivi con la variante Delta e l'ulteriore calo di somministrazioni dei vaccini tra i giovani. La Sicilia, secondo i dati registrati alle 9 di ieri sera, ha somministrato l'87,9% di dosi consegnate. La media nazionale è del 90%. E il commissario per l'emergenza Covid a Palermo, Renato Costa, conferma Sì, è vero, le prime dosi tra i giovani sono in forte calo ed è un problema per la scuola e per i prossimi giorni. Purtroppo è come se l'estate avesse cancellato il Covid nella mente di molte persone. Pensiamo che non ci sia più o che sia andato in vacanza e che ne siamo fuori. Un grave errore. Comunque noi, i ragazzi, li andremo a cercare nel cuore della Movida. Partecipando, sentendosi, come dire... Partecipando, sentendosi, come dire... Partecipando, sentendosi, come dire...